Ma no, ma che è il suo figlio di fumaggio? Traffice mamma tu. E da dove sta? Sta fuori. E papà? Non sei scettato ancora? Sì, io dalle 5 questo aspetto. Se va bene un po' di caffè. Deve bollire la posa. Tanto sembra una caffè che viene. E vattela a prendere da Vicenza, va. Ma così fai. Buongiorno a papà. Un bacetto. Guarda, guarda. Guarda, guarda. E che lei fa? Molto. I maccaroni mi hanno stanno? E io che ne so? Papà ve l'avete mangiato voi? Ah? Ve li siete mangiati voi? Ma questi non erano i miei questi. Ma i vostri non ve li siete mangiati ieri sera? E ora non mi ricordo. Ah, non mi ricordo. Ma voi mangiate di notte? Voi andate a posto? E ora è stato munacelo. Ehi, ehi! Io stavo cercando di capire da dove veniva la puzza di formaggio. Ho trovato questo piatto di maccherone che mi ha chiesto di essere mangiato e ora sono mangiato. Potevi mai sapere che erano i tuoi. Quelli sono uguali ai miei. Dalle quali miei? Dalle quali miei? E quant'è? Perchè? Scasso tutto coso? Ma che scasso, scasso tutto coso. Si, veramente non mi ricordo. E voi non vi ricordate? E io li mangio di giuno. Ma i maccheroni tuoi erano tanti però. Ma che tanti? Ma che tanti? Ma chi li hai scoperto tanto? Che vuoi? Non alluccare. A prima mattina, ma... Ah... Vai, vuoi che è meglio? Infatti, vai che è meglio. Vai a faticare. Ho piatto tanto. La gioventù c'ha sempre fame. In me la verità. No... No... No! No... No... Grazie.